Cosa è successo? Mi sono piaciuti tantissimo Quindi oggi siamo ritornati Questa volta Con l'edizione impossibile Perché siamo con questo qui Per chi non lo sapesse Questo qui ma penso lo conosciate E' un Oculus Rift Ovvero L'occhialino Chiamano l'occhialino e una maschera Della realtà virtuale Quindi metterò il cellulare lì Con un horror a 360 E' come sempre Soltanto che purtroppo E' come se io fossi là dentro Cioè praticamente io con questo coso sono là dentro Quindi non è più Prova a non spaventarti Cioè una prova a spaventarti impossibile Perché è impossibile non spaventarsi Prenderò alcuni video da Youtube E nulla Se volete un altro episodio con l'Oplus Rift Non lo so un gioco Sempre una prova a spaventarti Arriviamo a mille like Commentate Iscrivetevi E se iscrivete il video Condividete il video E comunque il rituale sta per arrivare Quindi non temete Non cominciate a scrivere qua sotto Eh quando arriva il rituale Quando arriva Arriva tra poco Comunque non è un orbs Quello è passato E' polvere Quindi anche un altro mi sa Perché c'è il flash Quindi raga Non preoccupatevi Se vedete Pallini passare E' polvere Quindi Quindi nulla ragazzi Direi di iniziare subito E Buona visione Wow raga Comunque rende tantissimo Qui c'è uno specchio Oddio Sono una donna Ah ok Siamo entrati in una stanza buia Perché sono storto? Cioè devo tenere la testa Ciao Cominciano a sbattere le porte Ok E si è formata una Angele nella porta Non voglio giocare a palla Grazie Puoi tenerti Io non voglio Io non voglio più farlo raga Oddio E' piena di segni sta porta Come non ho? Come dire anch'io No Non devo fare sto vicio Ok C'è la televisione accetta Ok Va al culo Va Madonna raga Come ora non mi sono spaventato Vi devo dire la verità Non è che devo fare lo stupido Non mi sono spaventato Ma qui è dove ero prima Eccoci C'è una 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 Valak Valak Che cazzo è Valak Di nuovo No ma questo qui è come E' come co Oh C'è C'è Ah Dei congiure in due Ora ho capito Che cazzo è successo Ah non è finito Ok ora sono In una stanza Di video sorvegliante Cioè nel senso delle C'è Samara C'è Samara Quello che ho fatto è rituale Ve lo lascio sempre qui Dove siete Non Oh No rende tantissimo Questo rende tantissimo Samara Samara noi siamo amici Eh Eri anche a casa mia Un'altra volta Cioè a casa di Diego Dove minchia sei Non ti nascondere Samara Cazzo sei Samara Minchia Samara Io non c'ho voglia Giocare a nascondino Con te Samara Cosa è successo? Ok raga qui ancora Non è finito C'è tutt'uno Hanno fatto Mi sa Della completion Turn up your volume Si alza il volume Best experience Con le cuffie Turn the E spendi le luci Noi ci siamo Tra tutto questo Eh Quindi già raga Comunque io ho perso Che cazzo Oh No Ma che cazzo Sembra The Rake Quello lì Mamma Ma che è Stai fermati No Ora me lo aspetto Me lo aspetto Oh Non è successo Stranamente Che cazzo c'è scritto Ken Help me Eh a tua Io a te Giusto No te a me Ah che minchia Stai facendo No ma che è Che tu Diana Ci sono dei panichini Daga Ma che quanto Quanto rende Ma che cazzo Spacchio Ma che cazzo Ma che cazzo Oh ciao Come va Oddio C'è una vasca Ok C'è una vasca Se si muove Qualche manichino Mi cago addosso C'è una vasca Ecco Come non detto Come torna indietro No No Questo non mi ha fatto paura Oh è Natale È già Natale C'è qualcuno Eccoci No Pensavo Non volevo fare questa domanda Oh questa domanda Comunque È peggio Di andare all'inferno E anche Quando faccio un video Ma sta luce C'è un lampadario Che si muove Raga Sarà Babbo Natale No Queste sono luce di Natale Penso Sì Sarà Babbo Natale Cioè Voglio sperare Ecco C'è un cellulare Mi sembra La scena di Come si diceva Come si chiama lui Di Tony F Hello Hello Dovi un'inchiesta Il cellulare Ah è lì Dai veloce Andiamo a prendere Questo cellulare Perché va Sempre più forte Oh prendi Sto cellulare Oh Che cazzo No Te resta lì Amico Resta lì Oh compa Non scassa la minchia No Oh Spunto Ok raga Questo qui era il video Spero vi sia piaciuto Se così è stato Lasciato a me Mi piace Commentate Iscrivetevi Mi sono cagato addosso Ovviamente ho perso Se volete altri Di ciò di così Arriviamo a Mille like È stupendo Non potete capire Quanto rende Mi sono cagato addosso Ho perso E nulla Noi ci vediamo Nel prossimo video Noi ci vediamo